Un clamoroso autogollo del Ministero all'Istruzione. Fa capolino al Consiglio di Stato la battaglia legale dell'Avvocato Santi Delia e di due aspiranti medici messinesi non ammesse i test a numero chiuso che si sono svolti lo scorso settembre. È stato proprio l'organo giurisdizionale romano a dare ragione alle due giovani che avevano fatto ricorso contro l'Ateneo perché durante le prove di ammissione su direttiva del Ministero all'Istruzione avevano dovuto compilare, prima di svolgere il test, le schede enagrafiche violando di fatto il principio dell'anonimato. Sin dallo scorso anno l'Avvocato Santi Delia si era detto fiducioso che le due giovani avrebbero avuto accesso alla Facoltà di Medicina. Le speranze si sono fatte sempre più concrete quando la vigilia dei test svolti lo scorso aprile lo stesso Ministero all'Istruzione aveva modificato le modalità di identificazione dei candidati. La vittoria legale dell'Avvocato e il sogno delle due giovani messinesi si è adesso avverato con tanto di scuse perché oltre ad essere riammesse alla Facoltà di Medicina è stato disposto un risarcimento di circa 10.000 euro. Risarcimento che l'Ateneo di Messina rimanda al mittente il Rettore Pietro Navarra ha infatti dichiarato che l'errore rilevato dal Consiglio di Stato è frutto di un ordine del MIUR ricevuto da tutte le commissioni italiane e pertanto anche da quella di Messina. L'Università peloritana quindi si dice parte lese e ritiene che qualora dovesse risultare una responsabilità generalizzata e questa prima sentenza dovesse essere confermata dovrà essere lo stesso Ministero a farsi carico del problema e non i singoli Atenei in cui sono migliaia i ricorsi presentati sulla falsariga di quello vinto dai due aspiranti medici. così come succede in altre parti d'Italia o in giro per il mondo. Ma devo dire una cosa, forse mi sembrerà un po' strano.